La ragione fondamentale per cui siamo qui è che le istituzioni collaborino, quindi Comune, Fili di Firenze, Regione Toscana e Ministero, collaborino a cosa? Innanzitutto a sbloccare oggi il blocco dei pagamenti perché i nostri dipendenti della Fondazione, i miei colleghi stanno lavorando senza certezza di retribuzione. Io siamo ottimisti che questa cosa si sblocchi nelle prossime ore, ma è ovviamente necessario che ciò avvenga. Così i lavoratori del Maggio Musicale che oggi hanno fatto un presidio in Piazza della Signoria a Firenze prima di entrare in Consiglio Comunale. Il problema non sono solo gli stipendi ma anche il proseguimento di tutta l'attività del Maggio. Intanto il Sindaco Dario Nardella ha riunito il Consiglio di Indirizzo per informarlo di aver inviato al Ministero le contradduzioni all'avvio del procedimento di commissariamento. Abbiamo lavorato anche il fine settimana, ha detto Nardella, per dare un quadro quanto più completo e per consentire al Ministero di avviare il più rapidamente possibile la procedura di commissariamento. domani il Consiglio Comunale farà partire una lettera per il Ministro San Giuliano, per il Presidente Gianni e il Sindaco Nardella a nome di tutti i capi gruppo per chiedere massima attenzione alla vicenda del Maggio.